buongiorno a tutti ragazzi io sono Sara e bentornati sul mio canale oggi sono qui per farvi un video che mi è venuto in mente in realtà mentre scorrevo la mia bacheca di youtube perché mi erano usciti un sacco ultimamente i video su programmi italiani quindi ho deciso perché non associare alcuni reality italiani a dei libri in modo da prendere tutto un pochino più comico e suggerire ai miei scritti che guardano la tv italiana cosa che io non faccio alcuni libri che potrebbero piacervi quindi direi di iniziare subito la maggior parte sono programmi di Maria De Filippi va bene allora il primo programma che ho deciso di proporvi è amici di Maria De Filippi quindi se vi piace amici vi piacerà assolutamente Nevernight di Jack e Stop in realtà non assolutamente perché l'ho associato per il fatto che anche in questo libro per gran parte di questo libro c'è una scuola dove si insegnano varie materie ci sono delle prove e il migliore vince però non sono esattamente ballo canto recitazione una volta eccetera eccetera ma sono tipo classe di veleni combattimento a mano libera combattimento a mie seduzioni e non lo so per me c'entrava tanto e mi ha fatto tantissimo ridere e pensare all'associazione di questi due soggetti quindi sì io vi propongo Nevernight se vi piace amici anche se è molto più crudo è decisamente migliore a mio avviso continuando con Maria De Filippi abbiamo poi uomini e donne in questo caso vi consiglio la saga di Deselection di Chiera Cass che ho apprezzato ma non è la migliore di sempre ha grandissimi difetti ma più o meno come trama ci stiamo perché abbiamo praticamente in Stati Uniti futuristici questa lotteria che estrae delle ragazze che vengono portate al palazzo per partecipare a una specie di bachelor di uomini e donne dove si contendono la mano del principe. Stessa cosa per Vampire Royals che ho letto ultimamente più o meno il concept è lo stesso la differenza che la famiglia reale in questo caso sono montini. Mi è piaciuto di più Vampire Royals però ve li consiglio entrambi se volete qualcosa che assomiglia a uomini e donne se è quello il vostro programma preferito. Io lo guardavo da piccola con mia madre e sinceramente adesso non lo guardo neanche più. Andando avanti abbiamo C'è posta per... sono quasi tutti i programmi di Mario De Filippi va bene. In questo caso vi consiglio Love Rosie di Cecilia Ahern. Consiglio questo libro perché è scritto in un modo che mi ricorda C'è posta aperte per l'invio delle lettere perché è tutto sotto formato di lettere, sms, chiamate, video, chiamate, chat, queste cose qui. È una storia d'amore però come format mi ricorda tantissimo C'è posta aperte quindi ho deciso di infelire in questa categoria. Abbiamo poi il grande fratello. In questo caso vi consiglio Regina Vossa di Victoria Iliard perché più o meno il concept c'è perché la nostra protagonista Mark che fa parte dei sangue rosso quindi della frazione del popolo che non ha poteri magici e usati come schiavi mentre i sangue argenti sono quelli ricchi con i poteri scopre di avere i poteri. La famiglia reale cerca di mascherare tutto e la fa credere una perduta sangue argento e la butta praticamente nella corte reale. Quindi abbiamo Mark che è circondata da gente che non conosce quindi deve guardarsi dalla nomination. In realtà non è una nomination però insomma come atmosfera di una casa chiusa con tante persone e in questo sistema di emigrazione mi piaceva, mi interessa secondo me ci stava e anche qui c'è un contest per cui il principe deve scegliere una ragazza. Questa cosa è molto gettonata nei primi young adulto. Faccio adesso resuscitare un programma che a me piaceva tantissimo ma che non si fa da tanti 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 anni che è la talpa dove praticamente venivano buttate un sacco di persone in un posto lontano in Kenya mi pare fosse un'ultima volta. Tra di loro c'è una talpa quindi loro devono cercare di scoprire chi è questa talpa facendo anche prove di coraggio. Il programma mi ricordava tantissimo Charlie Lewis per il mistero di fondo perché anche in questo libro stiamo in una scuola, c'è un mistero e la nostra protagonista cerca di risolverlo quindi quasi individuare la tappa. È un thriller young adulto, misteri e io lo dovrei, è il mio preferito in assoluto di questo genere. Quindi io ve lo consiglio se vi piaceva la tappa, se vi piaceva questo stile investigativo di cercare un colpevole questo libro fa per voi. L'ultimo programma che ho deciso di nominarvi per oggi è l'isola dei famosi. È in questo caso associato il libro The Host, cioè l'ospite di Stephanie Meyer. Ho associato questo libro perché secondo me ci sta tantissimo la parte survival perché qui abbiamo un apocalisse, praticamente siamo in un mondo post apocalittico in cui gli alieni hanno conquistato la terra e sono dei piccoli esserini che si installano nel cervello degli esseri umani e quindi hanno conquistato la razza umana e ci sono alcuni ribelli che comunque attivano del libro delle grotte, del sistema di caverne e devono appunto sopravvivere e fare tutto da sé. Quindi come nell'isola dei famosi devono cercare di incendere il fuoco, pescare, fare, dire. Qui fanno tutto da soli, anche il sapone e quindi questo aspetto me lo ricordava tantissimo. Ho deciso di associare The Host all'isola dei famosi. È un libro un po' lento, non è per tutti, però io lo adoro letteralmente, quindi vi consiglio di leggerlo se non l'avete ancora fatto. Ebbene sì ragazzi, questi sono i programmi a cui ho deciso oggi di associare un libro. Fatemi sapere se questa idea vi è piaciuta, lasciatemi un bel mi piace e se volete vedere un video parte 2 con programmi che potete suggerirmi benissimo giù nei commenti perché questi sono quelli che sinceramente mi sono venuti più in mente. E sì, il video finisce qui, come sempre vi lascio giù nella info box tutti i link cliccabili dove potete acquistare i libri che vi ho fatto vedere nel video e più tutti i link ai miei altri social network. Io spero che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!